in ognuno di noi dimora un bambino in alcuni è silente e quasi addormentato in altri invece è talmente presente da prendere tanto spazio può accadere alle persone più sensibili a quelle a cui tutto sembra spesso troppo questa favola introspettiva è dedicata a questi ultimi a coloro che cercano una convivenza pacifica e amorevole con tutte le parti di se stessi e con i mondi fuori Grazie